Il fisico, guarda, si porta la pianta, le piante ci servono. Se no scendiamo come fa Fabio. Piano piano, oltre a non scivolare qua, la luce la accendiamo dopo, se volete pure ora, però vi consiglio dopo. Vabbè, non si scarica la batteria. La foto del primo gruppo, Francia. Francia, la foto, tu sei la foto. Sì, ma è in filentiana? Sì, sì, in filentina. Madonna! Solo questa l'ha fatto in Vesante. Felice a quel giorno. No, è venuta a me. Che uomo del tecchio. L'ho chiamato. Siamo di Ferenna Mossa. Benissimo. 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 Abbiamoci tutti qua. Benissimo. No, è che qui. A presto. No. No, è che qui. Non è che qui. Ferenna. No, non è che qui. No. Siamo qui nella grozza, stiamo scendendo, il percorso è davvero difficile Qui c'è l'altra parte del gruppo, terreno davvero scivoloso Come potete vedere lì c'è un'altra parte del gruppo, lì ci sono i ragazzi I ragazzi muniti di caschetti Come è andata? Bello, interessante, da fare almeno una volta nella vita Come è andata? Un po' pericoloso Fermi qua, il secondo gruppo, fermi non vi muovete Lui è Fabiano, di gruppo avventura Il primo gruppo è fatto, ora portiamo il secondo e poi Ho paura per le dimensioni Sama hai paura di cosa? Per le dimensioni Allora, fermi là il secondo gruppo Bisogna provarlo la prima volta nella vita È interessante e bisogna stare a tendere le dimensioni Allora, Federico Sono a posto, lo dico io quando accendo Voi volendo adesso Fermatevi qua, ma come si gira lui? Giroce una foto con quello sfondo E sparafondo E sparafondo E sparafondo E sparafondo E sparafondo E sparafondo E sparafondo